il prossimo incontro vedo un certo Bartani immagino no, Bartani è quello che usa Warang lui e io non li so scusate Iki Raishin è inventato Iki Raishin è pure inventato tutta questa roba scusate Iki Raishin spazio no 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 quella è Y ma cosa vuol dire Rikishi posso dire Rikishi come il resto noi lo chiamiamo Iki però Iki Raishin contro contro c'è ancora devi dire ormai si è impossessato per l'altro ne ha giocato bene gli porta bene e se esce Jinpachi Joshin devi spiegare i dovranno andare a base la notte che sono tutti finiti quindi non hai possibilità di partecipare non è dovevi svegliarti prima simpaticamente Josh a te no a me dà fastidio che la gente mi chieda un trucco cioè basta che usate i social ragazzi è uscito su Twitter non ne parliamo usate Twitter imparate a usare Twitter che è importante non vivete soltanto in Italia se state coi tempi italiani faremo mai nulla uguale sono piccinini per Luigi Pardo di Tecno non so se un complimento no non è che mi piacciono molto Pardo si piccinini mi piacciono vabbè però almeno siamo ricchi e famosi Leonardo lo conosco io di Napoli e quindi siamo veramente così si 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 è orribile Twitter perché non lo sa usare e per quanto sia orribile tu adesso non hai biglietti per Amsterdam quindi la dimostrazione in realtà li ho presi grazie a The Phantom che ha fatto quel post subito grazie The Phantom è il social media manager ufficiale di questo torneo infatti lo devo ringraziare non so se avete notato ma The Phantom ha fatto tipo una storia un libro così con le storie di tutti i partecipanti del torneo più o meno prima del torneo di oggi ha messo su Nike da solo The Phantom i suoi testi molto più lui diciamo che alla grande alla grande è perché avendo vinto sia la prima edizione che la seconda edizione ci tiene particolarmente a questo torneo quindi c'era un grande motivo intanto sarebbe Simone poi Balbi che deve fare sarebbe il manager della postazione quello che manca Simone tu qui già lo sa il primo altro visto c'è il mixer bisogna bisogna beh per qua perché è tollerato qua l'altro questo è per il torneo di Napoli che ricordiamo il 12 gennaio dovete l'iscrizione omnicomprensiva di ventiero che comprensiva la tessera jack che il dessert che il badge che il portachiavi tutto incluso nell'iscrizione mi raccomando fatela entro il 15 dicembre perché ci sarà poi il late bird dopo il 15 dicembre quindi saranno 5 euro in più le iscrizioni chiudono il 5 gennaio il 5 gennaio ciao giosuè ciao 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 giosuè la cosa più importante sono le palle le palle di intanto abbiamo un leo a quali sono affezionato perché c'è il leo e sono i nomi invertiti è strano invertiamo subito i nomi quindi non sono di parte bravo esatto immagino da meno acuma come te ti ferai sicuramente acuma provate qualche volta usate il cf1 encounter è simpatico 54 59 no 54 bello bello vediamo ha sentito che scrocca ha rotto quanti fumo che scrocca però è ancora in piede acuma non si sa come sarà l'adul sai la roba lì il lato scuro di aria mantiene in vita in realtà il cf1 che a lui piace giustamente tanto il progetto di nostra la fa perché se lui fa la palla crash il focus lo ammazza lo ammazza proprio sarà 60 danni mica male semplice si sta giocando semplice senza altre quelle sciocchezze che faccio molto più semplice un game plan pulito si arriva una combettina una grazia da combo e avanti due due esatto per punire il salva 1 si sta quindi dice si sbagliano c'è niente poteva fare meglio sai che c'è l'option select per tutti quelli che giocano contro acuma dovete saperla questa cosa se acuma fa il tazumaki singolo sta a meno 15 quindi potete lanciarlo con il vostro personaggio non tutti quelli che hanno il lancio per me se acuma ne fa 3 invece la mossa va a meno 14 il punto è che se voi premete offkick per punire il singolo e acuma fa gli altri due il vostro offkick non partirà e quindi potete poi punire il meno 14 quindi fate sempre offkick dopo il tazumaki singolo vedete che arriva il resto della mossa e fate la punizione esattamente bravissimo qua questo è meglio meglio del match precedente ho unito molto bene ma sbagliato il finale e qui mi sa che non perdono perché si è dovuto giocare la barra perché non aveva ancora il dottore il tazumaki lo chiederemo dopo domani quando nessuno segue bene, hai visto B o K sotto la sotto la bolla non è messo malissimo Leo? no è messo bene però devi sapere per esempio se lui fa se acuma fa il focus e Leo fa dietro 3-1 non solo si becca il danno dietro 2-1 ma poi va in finisce passa sotto il focus e gli toglie tutto il resto della barra un minuto quindi è come con Warhammer sai che è con il backlash si fa la stessa cosa tanto il Kambè è 2 barre per Akuma pericolosissimo l'ho appena detto manco ho finito di dire è già finito le barre ha tolto metà barra tra un po' va va bene 126 ma paracolo oh mio dio questa volta secondo me pensavo fosse un vs4 recuperare a questo punto non punisce però le previsioni tipo non era meglio fare un vs2 lì anche se non è garantito non era meglio fare un vs2 lì un vs1 si però più lento più lentino fino a 14 13 vs2 quindi entro si 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 1 a 0 per Devinin eh poteva poteva farcela diciamo finché non aveva le barre si è in posto poi appena il problema è stato che ha proprio fatto una scelta pesante per più 2 a round con il comeback di Devinin era 2 a 0 bella per me avanti 4 è passato sotto a medio è passato sotto a medio sotto a medio non si sa come quelli sono medi medi penso giù 3 medio medio se non sbaglio ha fatto giù 3 a gomma che tipo si abbassa fino all'infinito cioè sotto 2 medi quindi veramente insieme rialzo 2 con il infatti stifo tutta la combo muro preciso sheng questo round si è giocato la spallata di rialzo ma niente niente un 4 mentre in ch senza fare niente poteva anche fare qualche definizione però almeno fare qualcosa eh si che io ho 2 a 0 iniezione sheng ha ripreso io ho la splendida forma vediamo un po' se riesce a riprendersi e qua si consuma la barra così porta un muro e mezza barra è colpa anche di più e la barra è recuperata barra è recuperata perché questo è un bellissimo gioco ripetiamo che la curma mentre viene picchiato recupera le barre e anche mentre picchia in giagola picchia in giagola tutto finisce rischiando un po' però finisce bravo sheng prossimo match per caso 2 a 0 che devi niente e ora che abbiamo prossimo match quanta c'è la lista? eeeh ingo devi dirla loro dica noi che ne sappiamo noi penso vada bene muoio male muoio male muoio male la fiducia di ingo si si proprio self confidence non so ok sai se tu la cosa sai mister geese mister geese mister geese prossimo match contro immaginate chi divizzerà mister geese un simpatico no capo e tai un simpatico lucky goal lucky club play ok allora mister geese contro capo e tai capo e tai lui viene dal pakistan ok mister geese ricordiamo che viene dal pakistan praticamente è arrivato stamattina solo per fare il torneo direttamente da islamabad ricordiamo che è la capitale del pakistan ma la sorpresa più grande è e lui si chiama mister geese ma non usa geese no usa lucky club usa lucky club usa lucky club no non è vero io la prima ho visto joshio usa geese akuma eeeh è venuto a fare il dono di king of fighters ha fatto egg è il campione ufficiale di king of fighters ciao peter lù eeeh pati eeeh potrebbe essere ma anch'io pensavo che fosse ero un chiori e invece no ci avrà una plastica in realtà è il lui si si esatto poi si toglie la maschera tipo le maschere vabbè quindi quindi invece no ha rispettato ok incoerente no perchè prima l'ho visto con josh è un'altra cosa pensa solo a giocare dai che sei tutto di jimmy dai controtempo e poi canon furis mamma mia infinito azzurro questo stage a me piace perché perché mi piace la musica rilassante ah ok però ogni tanto mi sembra che il gioco è rilassante questo stage voi dalla chat notate che in questo stage rallenta ogni tanto il gioco a me sembrava da un po' tratto ogni tanto non so è l'unico stage che non mi convince tanto vediamo vediamo intanto è una è qua subito col mix up diretto senza pietà gis hour questo è un counter da 10 grazioso che scuola graziosissimo abbiamo un santo ci sei buonasera buonasera mamma mia vediamo un po' riesce nooo non punisce la pezza fa già la cosa non è completa ragazzi non può farla completa salutate tutti santo 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 vai il doppio repugano in volo tipo ho messo gis forte gis gis in set è uno dei personaggi più forti del gioco dai personaggi che hanno aggiunto questo è il più forte sta fuori ha le peri solo su tutto mamma mia qua ha tirato lo stesso max mod e quindi questo ragazzo ama la scelta si 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 subito hai visto quante volte si gioca colpo alto diretto colpo alto diretto proprio senza paura ti amo rischiare dai dice tanto e non lo para nessuno infatti è il fuoco è il fuoco è il fuoco è il fuoco mamma mia un corso a 3 grazie sai cosa dovrebbe fare forse giocarsi in battle vedi questa volta ho fatto il medio un pizzatto col mondo finale niente il basso buono ci ha comunque sta per arrivare un dietro 3 2 1 2 eccolo qua visto questa volta è scelta di nuovo scelta di nuovo subito dovrebbe andare in avanti mamma dovrebbe tirare qualche cd3 ancora scelta però un cd3 è anche in regge attenzione un 3-3 grazioso che entra in cd3 un pochino approfittando dell'ignoranza di capo stai che non ci ha mai giocato giu4 che arriva è lungo giu4 è molto comune di qualche segnale è un'ottima mossa però non avere i cd4 generico in certe situazioni devo dire usando gioco anche udo giosi e qui ha fatto lo TZM con il mix up e il basso un azioso basso un po' un po' all'agrumone mamma mia il df2 che entra no questo run è importante eh si perché se perde tutti i run si mi perdono però io dico sempre questo run è un mix up ta ta mix up ancora una volta col basso era un hop un'oppica contrasto però non è entrato perché fa un altro perché dice se non entra lo ritirò eh si però ci ha perso corea cappellambo mister giz ci vuole il muore ci vuole il muore ci vuole il muore ciao rukeng bene 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 ciao rukeng come sei? stiamo bene stiamo stendo in pò abbiamo un mister giz grazie a tutti perché tutti i giocatori da pakistan usano giz verso capo e tai capo e tai che una volta usava la coppia dolcissima eddie bruce una graziosa coppia da 149 d'anni che coppia scarsa che era mamma mia sembrava che il gioco fosse costruito solo per loro due perché per qualsiasi colpo anche le gioco da vedere proprio erano bella grazie grazie rukeng forse forse il basso della string intanto mi sta sentendo anche l'altro giocatore quindi il coaching scorrettissimo ma questo ricordiamo non è tipo t quindi abbiamo un certo margine di ecco il flow attenzione vediamo se porta un muro rompe il muro e parte una mini gioco no ma c'è stato c'è stato e non è facilissimo con giusy no? no perché se rompi il muro e poi scende subito devi fare più 4 è un po' complicato quando rompi il muro il muro questa volta lo ha salvato ma si ha salvato male SS3 ecco SS3 ora vi annuncerò roger jr in amsterdam non ti preoccupi è ok per me se vi annuncerò roger jr ho avuto molte possibilità di ottenere un carattere che mi piace adesso non ho scoperto no ho scoperto di lanter ho scoperto di lanter ho scoperto di lanter sì un momento non finito vediamo che è andato in max mode aiuto max mode altro dietro ma così senza mano? sì mamma mia senza ma non lo sa mi sa che l'ha capito e può giocare a favore in mezzo alle stringhe niente grazioso salto qua toglie pochissimo eh ha sbagliato ha sbagliato ma la rifa adesso la ripeto esatto buona la pressione prevedo oh non può crescere che parte più un po' attenzione niente si è alzato pure presa d'occhia e entraro che scelta che scelta che scelta sta rimassa lì vediamo chi riesce a recuperare un no niente sarà terra con un cd3 di joseph sta giù con la barra vabbè sta schivando impossibile intanto l'altro l'ha schivato bravo dietro il 3-2 ma non ha chiuso poi c'è la barra adesso farà tipo il mix up esatto ha fatto wall bounce ti dà anche un grazioso vantaggio nel caso pensavo che era cd3 sta arrivando sta arrivando sta arrivando attenzione attenzione pam 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 no non è finita ha già lasciato il gioco oh poteva recuperare ma oh un grazie zombie non ci credo non ci crediamo ancora aveva già lasciato il padre aveva già chi straba diciamo no squint no squint in season 2 bravo aveva già lasciato il padre è incredibile attenzione attenzione c'è uuuu uuuu io c'è anche un barry tra le alberga ma c'è il muro che lo salva in parte perché comunque comunque le ha muro pam 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 è finita la pacchia finite le barre entra questo gioco attenzione mamma mia mamma mia uuuu senza fretta senza fretta non ha barre chies perché 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 niente no se l'ha proprio giocata maglissima peccato perché mamma mia peccato perché è recuperato dove si vedono i pulse chiedono ragazzi adesso ve li mando sono due pc assieme sta facendo tutto di irlanda praticamente io dico solo bestialità mamma mia sconnettete i pad ingo e giorgio giorgio sconnesso sconnesso il pad il phantom adesso ragazzi scrivo il nome dei prossimi due giocatori abbiamo un grazioso allora sono due giocatori che hanno in comune qualcosa sono entrambi andati in terra penso che sia tornato intanto no si sono andati entrambi a lavorare in inghilterra e quindi conoscono anche un po' la scena inglese immagino tutte e due soprattutto The Phantom si conosce benissimo la scena inglese anche perché c'è natura lì da anni è ormai originario di Itri 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 provincia di Roma siamo veramente belli lo so penso dovrebbe essere sì nel Lazio non so che provincia ma nel Lazio si penso io Formia forse forse non so nemmeno se fa provincia glielo chiedo perché sono curioso si colmo anche quelle mie lacune Rucchi anche ci scrive in italiano sì ho capito ho capito ho capito ora vedrai il vostro amico che giocherà ora The Phantom è ora per lui 103 spettatori stiamo salendo stiamo salendo stiamo salendo e sono solo qui attenzione che santo santo sempre ride ride ma picchia è pericoloso con il suo Bob credo Bob io mi ricordo l'ultima volta ci ho giocato Bob o Bob o Bob Bob il torno andrà avanti più una stasera Bode allora io non rispondo perché le chiesto a lui se no ti risponderei penso proprio di sì quindi se avevate qualcosa da fare mi dispiace ma dovete rimanere a guardare queste facce Bob Bobbo no Bobbo manca sempre il Phantom è qui non lo puoi vedere perché è un grosso dice giustamente Red King ma che senso ha questo torneo Radio Puto ha già vinto sì certo infatti sì lo hai scritto anche su Facebook e quindi certo è già andato così il Phantom ti saluta Ruken attenzione il Phantom sta facendo è morto qui niente si è tolta l'immagine si è tolta la perniglia scusate ragazzi allora il The Phantom c'è un grazioso The Phantom che ha voluto saltare la notazione streaming e non ci va più la perniglia ok abbiamo rischiato il linciaggio che non ci va non ci va più tutto bene siamo vivi chiede scusa The Phantom è esploso qualcosa sì sì ha provato a saltare il tavolo il salto della libertà vieni 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 saluta adesso ci vedrai ma non sei ancora Master Reve no i3 provincia di eh non lo so ragazzi ma è una cosa Latina ecco i3 provincia di Latina adesso guardo se va che giaggola era quella di Pan sì va tutto va tutto qua 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 avvicinati vieni dove sto io scusate ragazzi dovevo riprenderlo un felino alzati alzati ecco è stato lui un po' r3 abbiamo rischiato di perdere tutto praticamente cioè madonna mia allora cosa è successo ho preso una rincorsa incorsa ho provato a saltare il tavolo con il proiettore l'acquisitore e tutto è saltato sul tavolo però il problema è che l'ha preso dentro è caduto e è saltato tutto queste cose a Napoli non devono succedere no ovviamente ma anche qua non devono succedere tipo la camicia di forza mamma mia mamma mia vabbè siamo salvi dai ci siamo penso mo devi vincere per forza fortunatamente ci siamo che se poteva saltare tutto il torneo tipo eh certo mai più non ti permettere mai più come dice lui mai più mai più mai più mai più mai più mamma mia meno male meno male meno male l'ha preso in CH il tavolo l'ha preso in CH è stato troppo tardi per fermarlo è stato troppo tardi per fermarlo l'ha preso l'ha preso di un fenicocchio mamma mia ho sbagliato tranquillo Pietro che è sbagliato qualsiasi cosa tu fai ha sbagliato anche nel fatto qui sbagliamo tutti intanto santo come al solito ride sta pensando e dice che faccio prendo Bob Bob è una scelta ardua Bob ha una scelta ardua ricordiamo è un personaggio palindromico nel senso che non puoi vedere 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 ma anche se lo dire se non ha palla anche dal vivo è la sala si sta attreziando la barba santa sta pensando prendo Bob Bob una scelta il costume il costume capito è importante il costume si oh Gesù si preparano i giocatori scelta del personaggio attenzione no vabbè non ce l'hai fatta da Peter Lowe ci voleva una clip a parte che non c'era nessuno a fare il video purtroppo no veramente cioè avete voluto riprendere noi nella clip santo finto Johnny Depp santo finto Johnny Depp fake Depp handshake stretta di mano 3-2 ma ci sono tutti qua vero perché vanno dietro le clip scusate si si quasi tutti pronti attenzione abbiamo perso quundici persone a casa di The Phantom che è nella distruzione ovviamente i nomi invertiti per te invertiamo subito invertiamo subito si Bob strano against Master Raven perché giustamente Ruken perché 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 non lo sappiamo non lo sappiamo non lo sappiamo non lo sappiamo wow il problema è che siamo a 30 fps quindi non vediamo mai Raven ah bene questa cosa mi giunge nuova no quando tu metti lo streaming a 30 fps che abbiamo dovuto fare e la i frame di Raven in cui si vede fare la capriola quella che passa attraverso sono solo quelli che lo streaming non la pulisce quindi noi vedremo sempre è solo un fantasma è sempre un fantasma esattamente più o meno è da cui i giocatori i ragazzi lo vedono eh non sono noi qua il QF4 punito a vuoto da Santo che toglierà poco immagino eh sì perché l'hanno nerfato il problema è che hanno nerfato i colpi non il G3Q4 ma i colpi più ma di 1 e 2 quindi scalando togli 4 in meno 4 in meno però niente di più cioè 4 in meno totale non per ogni colpo capito è cascato nell'adversal di ehm massive Raven non c'è ok oh ciao azzar bravo azzar c'è un azzar che mi spunta da nulla dai qua mentre dall'uovo dove Defanto mi ha iniziato la rincorsa mamma mia anche prima mamma mia anche prima è stato bellissimo di prenderlo eh inizio è anche bello prenderlo qua qual è? mamma mia intanto stiamo perdendo un match più di grossissima vedi che rialzo di santa è bello rapido eh uh ma che male ma che male boh troppo il pesante sai cos'è che hai colpi a terra colpi a terra te lo comenta tantissimi ma infatti ti ha spazzato troppo aggressivo troppo però c'è lo sbaglio l'errore da parte di Phantom con l'Undertaker non è lo sbagliata eh no non devi fare la pelle tu devi l'appalare guarda toglie pochissimo a muro pensavo non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano ma ce la può fare ce la può fare ce la può fare ma ce la può fare addirittura selezione personaggio il personaggio secondo me invece andava benissimo tranquillamente con Bob tra due, non è che... guarda che anziti che non è ha scelto anche lo stesso costume tra l'altro, ma la cosa bella è che non c'è neanche pensato è stato solo tipo, boh ho sbagliato mi prendono la pausa qua si può fare la rivincita giusto? attenzione ha fatto la clip si può essere, qua la vediamo eh pietro tu lo ami tu pensa che però se rompeva qualcosa tu non potevi più vedere lo streaming quindi pensa un po' che bello meno male, meno male per poco pensa un po' piano se reagirà pura pica con graziosissimo Bob e tutt'altro che graziosi stringa numero 46 mi sto rendendo in mente che ieri mentre le stivamo vi ha detto no mettiamo i tavoli così così non passerà mai nessuno e non abbiamo pensato che le fanno un prova a saltarli mai l'intento era corretto però... quindi altrui wow questa rigid ma la porta in ridge quindi non so eh però lo poteva fare molto andiamo eh recupera molto il F peccato se però poteva pulirlo eh si ma passerà anche l'era fatto FF neutro 1-2 se avessi premuto 2 magari non lo uccideva bello questo db1-2 toglie poi è il colpo dopo che toglie si si quello toglie un sacco eh si ma tanto non si scopre in giappone no FF 4-4 di HADS buona la puzza ancora una volta e ma va dall'altra parte wow bravissimo sapevi questa cosa? no però bravissimo praticamente abbiamo visto che se lui fa invece non sai che è scoperta Rega? dove? quando ti fa la perry e salta? si è scoperta se tu hai una mossa veloce e poi premissuto 4 tipo la flotta però devi essere molto rapido no devi già sapere in qualche modo comunque quella cosa che ha fatto il phantom ovvero 4-1 e poi l'altro fa la rage art pensando di prenderlo di schiena è calcolata perchè Master Raven va dalla parte opposta quindi è tutto calcolato uuuuuh cos'è entrato? imparabile entrano robe a bel aria attenzione oh my god un trade mmm non mi è piaciuta questa cosa no decide di fare la doppelfassata salvo ma no niente da fare già fatto vince 2-0 attenzione i prossimi già sono prontissimi Zio Solid e Vicky Maru 88 ma secondo voi anche Zio Solid è dell'88 wow Rockang fate l'italiano un fantasma ma ancora il salto e quasi rupe il tavolo ha anche molta esperienza contro Bob quindi vincerà questa partita grande Google tra sé un applauso complimenti nice rook and nice translation intanto abbiamo un bel match da vedere due personaggi che amano giocare parando e insomma si stiamo abbronzando è caldo no? no più luce sparata ma se volete la possiamo spassare aspetta no no va bene va bene così va bene va bene anzi è meglio per gli occhi così va bene io non guardo mai il proiettore non si torna va bene no così vi arrivo in faccia no è meglio meglio di là che non so se ci serve ma c'è un'ombra però ah la so io eh si scusami ah quindi se mi metto qui per me puoi pure rimettere là siamo in diretta infatti vabbè vince chi fa più trucchi più o meno rivedete la nostra passione Markox mamma mia è tra lingua la fenice contro la flash di Josh è una bella sfida capito l'imparabile l'imparabile le imparabili le imparabili infinite quante ne ha? penso che ne abbia almeno 3 o 4 senza contare che sto pensando la flash è imparabile anche? non mi ricordo sai la flash è imparabile? no 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 la pari e e ah quella velocissima tutte le foglie si qua c'è quella quella dall'alto che ruota il basso il basso il basso che fa giallo quanti ne ha? è imparabile anche quando fa il taken? si ma non è imparabile ne avrà almeno 6 mmm però l'altro è la felice quindi è tutto equilibrato se lo diamo no? eh serio solido è un ragazzo siciliano da adesso che ha trasferito a Roma si si tutti trasferiti e trapiantati esatto adesso sta a Roma con quel baffetto da spardiero ma anche richi marco si è lanciato in baffetto barbetta barbetta avventurosa da uomini vissuti vediamo che bisogna che sia giusto non vado non vado non vado non vado non vado abbiamo anche parecchi spettatori nella nella parte nella zona teatro parecchia gente ragazzi ci stanno guardando online anche qualche esterno vedo esterno si 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 anche gente che non gioca qualcuno che non è del torneo ecco è anche fuori eh abbiamo un signore fuori dal locale perché sarà fuori avrà fatto 8 mosse in secondo un secondo ci sta ci sta con i poli tu può farlo con il tuo braccio proprio dicevamo della flash eccola eccola mamma mia tra l'altro gli occhi senza spada secondo me è più forte più forte perché la punizione è da 10 oggi è 30 la punizione è da 10 ecco se qua è fortissima fortissima è vero qua poteva fare pure un'altra in paramilina buono il 4.3 che crasha crashata 1.0 1.0 per ZioSolid che non vuole sapere niente i nomi i nomi sono invertiti arrivo arrivo facciamo subito ci appaghi Irlanda eh raga scusate mille cose Irlanda regia cronaca si si a montare ieri montati robe tutto si tutto 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 usa Yoshi preciso pulito esattamente usa bene comunque cioè cia po' intanto si prende il medio però la cosa migliore quando vedi che si è fatto quella roba indietro devi andare indietro wow ok una presa, il 4-3 che entra, la presa che entra, non basta anche se toglie qualcosa vediamo un po' rage drive B2, deve fare B2, non lo so secondo me, deve fare B2 B2-2 entra, ma entra con quel 4-3 questa match può praticamente sfasare le previsioni del girone magari ci si aspetta Rikimaru I invece Gio Solid è veramente Gio Solid, si è tutto l'anno che, non so se è venuto come di The Best non lo so, giustamente ma era già un ragazzo molto pericoloso ma non ha fatto che crescere, veramente Tornuitespa ha fatto veramente i morti, giocando molto molto meno mi sembra l'altro che controllo Harry Potter con più 3-0 si, vabbè diciamo che è molto bene ma giocando proprio Ciao Jack, questo tournamento è un tournamento Siamo qui vediamo che Rikimaru sta dando la sua risposta e si sta portando il primo round vediamo se se ce la fa Gio Solid fa un miracolo non c'è il miracolo non c'è il miracolo ecco 7 Golden Letters per Gio Solid si prende il primo round tra l'altro uh, si abbassa sull'arma o ve la punisci wow attenzione vediamo Fenici questa volta lo parla buona la parata non la punizione ma entra parata solida esatto Gio Solid questa mossa è fortissima c'è la scivolata perfect risponde la risposta di nuovo 7 Golden Letters mamma mia uno pari a questo punto Rikimaru è mai lo aspetta per fare una presa di lato esatto Rikimaru che comunque uno dei place migliori che ha è che è molto freddo intorno molto molto freddo è capace di cambiare il modo di gioco in corso nell'avversario quindi non è dire mai perché la partita non è finita è un altro tre perfect di fila cosa sta succedendo questo è un gioco fatto di pop esatto sembra di bombare vabbè su scappo una volta uno si tocca muore ok non ci abbiamo più perfect attenzione questo è un rando normale vediamo vediamo questa volta è in basso mix up Zaid risponde ma c'è la finice finice assassina 1-1 risposta degna di Rikimaru come dicevo la parità non è finita siamo di nuovo uno pari uno pari attenzione l'acqua non te l'hanno portata perfetto cercherò di uno ci sta lì numero a leone là in fondo a te dritto centro magico sta arrivando sta arrivando là qua con la mia gola la tieni in modo incessante cantiamo una canzone tipo la bersaglia collega questo dispositivo intanto qualcuno cerca di ma sabotare ma noi siamo bravi abbiamo i giocatori educati che desincronizzano i pad hai detto bene educati disciplinati esatto punibili perseguibili sì poi abbiamo gente che salta i tavoli ma quello è un altro discorso mamma mia quello non mi aspettavo mannaggia almeno saltare basta ma non so se poi un errore voluto cioè nel senso che ha sbagliato l'input era la distanza perché lì è piccolo sai non lo so diciamo che quella non è la giagostia è tra le domande che faremo dopo esatto domani domani invece di tornare a casa i fabbri quando tocca a te ti chiedono appena finisce finiscono questi gironi l'altra parte dei gironi ci sta più mamma mia finizione si sa che era meglio la la luce ok allora vado a continuare ci ha preparato ci ha occhiato una press inizia io spissiante all'altro mamma mia come se ne esce では ci si esce ecco negative wow 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 oh mio dio bravissimo track 67 fuori tempo rikkimaro spazzata ma prima quasi recupera vita recupera vita Rück должна vita o l'entrato li aveva parati tutti match point per rikimaru addirittura l'attuale pronto il rikimaru ostro raggiosissimo passare la sesta giornata set up in un mix up numero 47 pensavo un po' sul chat invece no? buona la punizione mamma mia se ne l'ha fatta pure aia 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 no non lo punta giu zeloid deve fare un milagro oh un mitra c'è la svantaggio si perchè era presa schippata vado uno per rikimaru con attenzione vedo vedo gente vedo un certo ray di punto ray di punto contro il Mr. Giz vedo un pa' avvicinarsi alla postazione di streaming dodo cerco di chiamare e l'altro è Mr. Giz attenzione vediamo se riusciamo a chiamare numero a Leon che sta là grazie stiamo settando le luci la luce in modo che non ci da fastidio perchè ci stava veramente a mano tanto non che dubbiate vederci non fa niente esatto niente quindi abbiamo Radio Puto vs Mr. Giz questo match è molto interessante perchè non so la conoscenza di Radio Puto e di Giz no infatti ho qualche qualche dubbietto qualche dubbietto sulla conoscenza eh non lo so qualche dubbietto ci stanno intanto ci stanno impostando ci stai cambiando ci stanno intanto cambia l'impostazione dei modi non l'ha cambiata la controllata non l'ha cambiata io non posso vedere se l'ha cambiata ah ok era così era giusto ok quali sono le impostazioni non l'ho controllato io perchè non è compito è normale però nel regolamento c'è scritto che le impostazioni sono fighting mode fighting mode quindi mi ricordiamo il monitor deve essere impostato fighting mode e ama haig 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 vabbè intanto mi stiamo arrivando qua se vuoto belle un abbraccio punto neo abbiamo stranamente i nomi invertiti abbiamo ghis contro feng ghis contro feng abbiamo attenzione giordano sta dicendo ragazzi quindi sta arrivando qualcosa tipo silence when i play vediamo intanto questo è il messaggio più bello oggi questo messaggio è stato eliminato molto bello papi c'è qualcuno che preme c'è qualcuno che preme si c'è qualcuno che piu ragazzi no cosa ho fatto modalità di riposo cioè giochiamo domani esatto qualcuno ha fatto va bene ragazzi inquadriamo noi ci hanno spento la playstation con il tasto perfetto ci prendiamo ragazzi modalità riposo qui entriamo anche noi vedete di questo non vision mamma mia che bei capelli che ho mamma mia i sabotaggi ma qua col sabotaggio di prima abbiamo rischiato abbiamo rischiato solo in italia e non ti credere non ti credere no 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 io non so quanta esperienza tu abbia per scrivere una cosa del genere ma ti assicuro che se c'è una cosa dove tecnici organizza bene è che gli intagini si fanno in modo decente rispetto al resto cioè non qua non possiamo dire niente chi aveva premuto prima uno di quei due uno di quei due che hanno premuto prima indagate sì ma fa niente tanto adesso giordano giordano adesso vai a sincronizzare basta finito si era come così così adesso basta che ne sincronizzi quindi easy easy è stato per forza uno di quei due quale migliore occasione per controllare si si è finito il torneo ragazzi è finito torneo passo ciao ciao ci siamo? ok ci siamo? stiamo riavviando tutto quanto buona il cellulare mi entra in si io sto semplicemente lavorando perché il capo decide di mandarmi le cose in qualsiasi momento quindi si ha vinto Bobbo si ha vinto Bobbo Bobbo vince sempre qualsiasi cosa si si ci siamo quasi ragazzi ci siamo per rivedere questo grazioso scontro prevedo rumori strani però non mi posso dire a che cosa mi riferisco si si noi giocheremo certo però più in là si più avanti penso tra un stasera come sta ciao gatto direttamente da zanzibar è impossibile salire qua e decide lui ha detto no 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 va un cuscino? ti do il cuscino? intanto abbiamo The Phantom si che è ancora vicino al tavolo è disarmato adesso è disarmato voi non avete idea ragazzi ma io ho una paura per tutto adesso The Phantom è disarmato non so come al cervello non so dove è disarmato non ci proverai mai più mai più mai più ok mamma mia cosa sta facendo fa? eh eh sta prendendo le misure del tavolo ci sta minacciando ma voi non giocherete ragazzi giochiamo nella seconda parte però leo non lo so però leo non lo so poi leo leo lei 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 lea magari si possa usare lei lei che implica tu ci siamo G's con trofei si ho già una previsione ma non la di Jungle House sento solo rumore il rumore questo rumore qua bo 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 siete pronti? E' partito con Bokker era Bokker non so, Bokker tante re Bokker che trovano a distanza Fank mamma mia cosa è successo ha preso tipo col tallone capito? un B3-2 senza barre riaffezionato controllo il tuo avversario ha avuto due che non sanno bene come si gioca molto bene beh, però presa si è fatto e si è preso K.O le sfere volanti in alto la town addirittura non ti affaccio attenzione prevedo un radiocutro attenzione attenzione non c'è lo spazio pensavo che si può sfrattare da lì bravo presa ottimo attenzione SS4 parato come sai SS4 di Fank parato come tutta la jungle ma non arriva muro fortunatamente del portano attenzione è counter da Gage Honey Allora muovi Questa è una cosa bella di Chisi tutte le altre no E' bella, è vero? Nooo Ah, attenzione Arriverà un mix-up Esatto, è arrivato, ormai l'abbiamo capito La testata Stava partendo un altro dietro Bravo Giordano Giordano non ci sta E taunt ha reazione E' una sfida avvelenata ragazzi Abbiamo una sfida avvelenata Uh, v3-2 Eh, c'è la giaggola Questa partendo a muro Maxmo a cuore su QG Ma ha portato a muro Ulciak, ma ha tirato ancora, non ci crede Vediamo un po' un mix-up Eh, no, non glielo fa bene Sta facendo le perche come l'auto Esatto Nooo, non gli è tratto la giaggola Attenzione Sbaglio, sbaglio, sbaglio Che non è successo Mamma mia, mamma mia, mamma mia Sbaglio, sbaglio E' seconda taunt Fanno una gara che c'era più corto Il CH, attenzione La giaggola Vediamo Perfetto 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 Il taunt Ovviamente Bravi Ma anche i personali C'hanno una certa personalità Ce l'hanno Esattamente Che bello Robe blu che partono Robe blu Esce dal muro Ma ci ritorno Non l'ho mai capito perchè B1, B12, B12 è salvo Non l'ho mai capito Era per gradini Questa mossa Non sapevo neanche lanciarsi Non l'ho mai vista Non so perchè Giordano ha tirato quello Ma la produzione Non lo so Comunque hanno finito un round Senza la taunt Versa sul secondo di B12 Ok Ci siamo Wow Wow Sub 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 Bravissimo Ci ha provato Ha tirato lo stesso Ha schippato la presa Questa volta C'è un problema Ehi Attenzione la temi Entra tutta Wow La spallata Ultima round Final round La six hit La six hit Un'altra volta non entra la spallata Stand up Non è il max mod là? C'è max Tanto c'è Harry Potter che com'è Perché non l'ha lanciato? Il max mod in 3 Questa è la scotta Non lo so Non lo so Non lo so Ai 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 Non conosce bene il G4 Vediamo se ne approfitta Eccola Eccola Non basta Vediamo qua Non basta giù due Giustamente Uno a uno Uno vai Devono riprendere a fare le tante perché da quando lo smessi sono uno a uno Schiammata di river Cabo Luigi Oh mio dio Che cosa? Stand out No sto rivedendo qua Ah Eeeh lo stand out E' una mossa veramente infante Non c'è scelta eh Giordano è random eh Non puoi scegliere Non puoi scegliere Dov'è l'arbitro? Fortuna Magico Magico Eeeh non sono io Non puo' Eh no Eh no A Milano sono io Non puoi scegliere Giordano Eh ha scelto Ha scelto Non puoi scegliere No 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 Stiamo Ore match o selezione Dai No No Eh no 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 Eh ore match o selezione Leggilo il regolamento Deve cambiare stage O random ore match puoi fare Se vuoi lo stesso è giungla Se no no Ok abbiamo Abbiamo Eh Che si è fatto Perché Giordano Si era scelto lo stage Si era scelto lo stage Si era scelto lo stage Come ha fatto Joe Dingo Contro Lil Magin Ricordiamo Attenzione Va bene Ricordiamo che sull'uno pari Sull'uno pari Quando Lil Magin recuperò La partita contro Joe Dingo C'era Joe Dingo Che ha provato A scegliere lo stage Meno male Meno male che c'è Ghirlanda che controlla tutto E questa è una benedizione perché quando appunto ci sono gli occhi di Ghirlanda Non sfugge niente Quindi Grazie a Ghirlanda Io intanto c'è un po' cosa Giordano con Chaita La prima juggle Questa Giza Vediamo Dietro tra i due Max Mode Con mix up Che però viene parato Viene parato in basso Con la relativa juggle E Rage Art Non muore Giza Attenzione Giza Ma anche una tonte Recupera 36 persi Eh mi spiace Fisate Round finito All'ultimo pixel Mamma mia Mamma mia Giza Ha tirato fuori Oh attenzione Però eh Mi ha avuto giù No ma aveva vinto Giordano Prima Ho perso all'ultimo Si Giza ha fatto il miracle Madonna cosa ha parato Non ho capito perchè non era calda Meno 12 non lo conosco Attenzione Max Mode Ma va all'indietro Fatto bene Ok Si parli a fare solo il giustano Mamma mia Eh Si avvicina bene Non prende con avantianti due Giusto? Oh attenzione Un B4 Vediamo se anche questa volta riesce a fare il miracolo Prima c'è riuscito eh Partirà indietro il 3-2 Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Cos'è andato vuoto mio Dio E' emozionante questa Questa qua si E' emozionante Oh bello Wow E' bravo Giordano La nevatissima dietro 2-4 Butta giù Attenzione Ben Ah No Ma lo butta fuori Quindi va anche bene dai Si si Poteva andare peggio Poteva andare... Wow Questo match Attenzione Bello Bellissimo match Vediamo Scelta Ha tirato Oh mio Dio Giù 4 Realissimo Giordano ha spezzato un altro Match point Match point Match point Attenzione Oh mio Dio non si è capito nulla Ha fatto tipo una berga Qui praticamente abbiamo esperienza Si Contro Il 2-D Il 2-D Il 2-D F3-4 Non c'è già Quelli che ha messo Presa Si è abbassato però È bravo È bravo a mixare comunque E con i video Eh Quelli sono tutti Rihanna mascherati Il Romone SS4 è entrato È finito È finito 3 a 1 2 a 1 Che Probabilmente più bel match di oggi Finora Complimenti Sono arrivate le acque Grazie Andiamo i rinforzi Ah ok Va bene Vado Sì Ragazzi ci sostituiranno Perché dobbiamo andare a giocare Ci è arrivata l'acqua Adesso ce la diamo Ragazzi Ti saluto Vado a fare il girone Grazie sempre per la compagnia Ci vediamo dopo Ci vediamo dopo ragazzi Uh Bravo Giuseppe Bravissimo La freddezza Ricordati solo che se ti fa Il mix up col medio è meno 12 Ta 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 O l'altro Beh uno e uno e tre Dipende da Uno è meno 14 L'altro è meno 12 Ce ne sono due Uno No Sono tutti due medi Però uno è 14 E uno è meno 12 Solo che è distanza Uno fa distanza e l'altro no era 2019 Chia Ciao 3 1 1 2 3